Oggi molti artisti hanno scelto di uscire dagli studi della radio per presentarsi personalmente davanti al loro pubblico e per incontrare direttamente gli appassionati che da anni li seguono con ammirazione. Uno di questi artisti è Mario Schiano della Rai TV che viene a presentarci un suo grande successo. Ed eccolo qui! Cosa ci canti Mario? Di Lomoriello, Cecere, Beneduce, Dentice, Apuzzo, De Marchi, Sequagliardi ho il piacere di cantarvi Non te scurdao o garofano. Benissimo! Un sempreverde che ha fatto piangere tante generazioni di giovani in cerca di cuori. In bocca al lupo! Grazie. Prego maestro. Ricorda Battista L'annuncio è un coppa a cuori solitari Cercai un appuntamento e tu dici sta Mi riconoscerai da un fiore lì Io giuro ero garofana E io ti cercai E tre o quattro ore Miezza a piazza d'anno Guarda la bombetta A tutta il signorina Ma non giuro ne ha tostito tu Goietti in da no cinema E ma tormetes Un'anname t'escriverà Num da scurdao o garofana O num da droga qui Scrivete Scrivete Scriviste Ma diste una devota appuntamento Noi ci vediamo ancora a piazza Dante Mi riconoscerai da un fiore lì Grazie 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 Guarda la bombetta A tutte le signorina Ma non giuro ne ha tostito tu Goietti in da docina E ma tormette Zun'annestà da lì Zun'annestà da un fiore lì Non ti scurdao o garofana O non ti trovi più Ma chi è che ha fatto le mani? Ma chi ha fatto entrare quello lì? Cioè scusa Chi è lei scusi? Cioè scusa Io veramente ho scavalcato Ma come ho scavalcato? Cioè un po' lo senti schiato a Vettorino Ma questo è un provino privato Non è una cosa pubblica Ma scusa che mi fa rire Io li conosco Ma che c'è? Non c'entra niente Ma me l'ho fatto sempre entrare Non c'entra niente